Campionato Serie C Calcio Femminile, in collaborazione con Micronei, BLM Group, Brusadelli Costruzioni, SSG, Baldo Industrie Alimentari. Dopo le due convincenti vittorie in Coppa Italia contro Fiammamonza e Azzalee e con conseguente passaggio agli ottavi di finale, la Como 2000 affronta tra le mura amiche la Brixenobi di Bressanone, nella prima giornata del campionato di Serie C. La Como 2000 si presenta in divisa gialla, la Brixenobi in casacca bianca. Arbitra il signor Maximo Frasignac di Gallarate. La partita vede subito le ospiti più aggressive e concrete e al settimo ci provano da lontano con Bielac, ma Presutti blocca facilmente. Le lariane faticano a trovare sbocchi per la manovra e si affidano ai calci piazzati. Badiali mette in aria, ma Mamoliti non ci arriva. Al quindicesimo, Stockner raccoglie il passaggio della compagna e calcia in porta dai venti metri. La parabola è centrale, ma Presutti si lascia sorprendere dalla traiettoria che si abbassa all'improvviso. È il gol delle vantaggio per le ospiti. Il portiere Comasco non è di certo esente da responsabilità, ma l'approccio alla partita dell'intera squadra non è stato dei migliori. Si deve andare alla mezz'ora per vedere un'azione degna di nota. Morosi lancia Viganò, che difende la palla e trafigge il portiere Costa con un diagonale, ma l'albitro annulla per fuorigioco. Trentaduesimo, dopo una buona trama delle trentine, è Keschtdorfer a incunearsi nell'area delle Comasche e tentare il tiro, che viene ribattuto questa volta alla grande da Presutti. Quarantunesimo, questa volta è Kammerer a trovarsi a tu per tu con Presutti. La palla è in porta, ma l'arbitro annulla per un più che dubbio fuorigioco. La Bricks Nobby è padrona del campo e va ancora vicino alla marcatura con Stockner. Presutti è attenta e dice di no. La ripresa vede una Como 2000 più determinata, almeno nelle intenzioni. Angolo di Ambrosetti, ma Mammoliti non ci arriva di poco. Al sesto minuto, le Comasche non approfittano nell'unica indecisione del portiere Costa, che legala la palla alla Mammoliti, il cui cross però viene neutralizzato dalla difesa ospite. Malgrado l'impegno, la Como 2000 non mostra idee e si arriva stancamente al finale. Quarantacinquesimo, bel verticale di Ambrosetti per Ostini, che viene anticipata dall'uscita provvidenziale di Costa. Troppo poco per far male alle ospiti, che hanno messo in campo un'organizzazione maggiore, ma soprattutto un atteggiamento mentale superiore. Non hanno mai sofferto i tentativi sterili dell'era Ariane e dal punto di vista fisico hanno mostrato un dinamismo maggiore delle avversarie. A fine gara, Mister Gerosa ha avuto parole molto severe verso le sue giocatrici. Di certo non era l'inizio che tutti si aspettavano. Ci sarà sicuramente tempo per rifarsi, ma è certo che la mentalità deve essere diversa rispetto a quella vista oggi. Domenica prossima ci sarà la trasferta di Oristano a chiarire le ambizioni delle ragazze comasche. Buonasera a tutti, siamo qui con Mister Gerosa della Como 2000. Oggi sconfitta dalla Brixen Bressanone per 1-0. Mister, cominciamo a dire che, dati i presupposti delle due partite di Coppa Italia, ci si aspettava una formazione e un approccio completamente diverso a questo campionato. Cosa è successo? Dei meriti della vostra formazione oppure più meriti della formazione ospite? Buonasera a tutti. E' vero, dopo le due prestazioni fatte in Coppa Italia, oggi comunque si faceva presagire un qualcosa. Sicuramente, almeno nei termini di risultato, ben diverso. Perché le due ottime prestazioni fatte in Coppa Italia c'era questo sentore. Evidentemente, una delle parentesi che bisogna lavorare di più in settimana, perché oggi c'è stata una squadra che è un atteggiamento disdicevole proprio. Una partita da guardare, oserei dire, ad occhi chiusi. Perché secondo il mio punto di vista, la mia squadra era irriconoscibile. Secondo me tante ragazze sono andate al campo, e non è un'accusa ma una sottolineatura, convinte di fare una passeggiata e non hanno portato in campo qualche determinazione per questo tipo di partita in questo momento del campionato. Probabilmente una sconfitta che potrebbe fare bene, nel senso che sia per la gente che si aspettava di fare una passeggiata in questo campionato dopo la bellissima annata dell'anno scorso, e un po' forse anche per le ragazze a questo punto, per come l'hanno approcciato, probabilmente potrebbe solo che far bene. Ma quello che è certo è che il nostro progetto non viene sicuramente sminuito o comunque è cambiato per questa partita, persa meritatamente, perché penso che o alla bravura messa in campo dalla squadra ospite ci abbia messo molto del nostro, anzi parecchio del nostro. Oserei dire quasi che le loro azioni più belle, le loro finalità, sono arrivate attraverso i nostri errori. Non parlo di errori di settore, ma parlo di errori glossolani da parte di tutta la squadra. Ripetisco il concetto che non è sicuramente questa sconfitta che ridimensiona il nostro progetto, però ci dà una constatazione, era un po' quello che mi aspettavo anche, perché questo campionato ha delle insidie molto particolari, e può darsi che faccia bene anche questo bagno di umiltà che servirà da qui in poi, perché ciò non toglie che l'avere disputato anche un discreto campionato l'anno scorso, in quest'anno, non ci dobbiamo mettere sicuramente nella misura di essere una squadra favorita o comunque una squadra che deve crescere, una squadra che deve lavorare e crescere molto velocemente. Se vogliamo entrare proprio a livello della partita, oggi abbiamo costruito molto poco, si torna a quello che era l'inizio dell'anno scorso, quando si faceva proprio fatica sia a costruire che, soprattutto a trovare uno sbocco offensivo. Dice bene, se vauta la partita da oggi, 90 minuti, zero tiri in porta, quantomeno tiri in porta di una certa efficacia, abbiamo fatto come i gamberi, siamo ritornati al passato, perché questo è così, come dice lei giustamente, è una squadra che oggi faccio fatica a riconoscere, ma su tutti gli aspetti, sia nei singoli che nella qualità del gioco, e soprattutto delle attenzioni. Vauteremo in settimana sicuramente alcuni aspetti, cambieremo qualcosa, le modalità magari anche di allenamento, cercheremo di imporre anche una mentalità ancora più aggressiva, evidentemente quello che abbiamo fatto fino adesso, ripeto, è un errore di percorso, però ci darà un momento di valutazione, a me personalmente, che trasferirò di conseguenza poi in una fase allenante anche alla squadra. Se vogliamo trovare una piccola nota positiva in una giornata quasi completamente negativa, è il fatto che abbiamo subito comunque poco, cioè nel senso che alla fine sono state solo due o tre le occasioni, tra cui il gol è arrivato da un tiro da lontano, e qui era anche... il portiere poteva anche fare qualcosa di più. Ma questi errori mi riserverò poi in settimana di valutarli con il mio staff e con la mia squadra. Detto questo, se devo essere sincero, l'unica cosa bella, positiva oggi, è stata una giornata bellissima con il sole che splendeva in campo. Tutto il resto per me è tutto da rivedere, dal fischio d'inizio al fischio di fine partita. Adesso Ristano, trasferta in Sardegna, prima della pausa, cosa si attende? Sicuramente il lavoro deve proseguire, dovrà cambiare di volume, di intensità, di cattiveria, di agonismo, tutti elementi che servono per andare a Ristano a fare una partita sicuramente ben diversa da quello che abbiamo visto oggi. Questo mi aspetta una reazione importante da parte di tutta la squadra e con la mia partecipazione magari in un modo diverso. A volte l'accondiscendere o a certe situazioni magari non pagano, bisogna essere un po' più aggressivi, tenendo presente che comunque la crescita di queste ragazze è un obiettivo sempre primario nel nostro progetto. Grazie Minister, alla prossima. Grazie a voi, buona serata a tutti.